Mi fa un altro bel respiro? Ti ottenga e lascia. Un attimo. C'è qualche problema? Liza, mi scusi se mi hanno fatto attendere. Era solo un piccolo distacco di placenta, ma il liquido è abbondante, la placenta è ben posizionata e il sanguinamento è già cessato. Stare tranquilla, la bambina sta bene. Bambina? Sì, non l'avevano ancora detto. No. È una femmina. Sì, no. Però lo speravo. Una bimba. Purtroppo però un problema c'è. Mi riguarda lei. Mi riguarda lei. Hi, qui? Grazie a tutti.